Le ibeles d'Apenia che per tradizione, per Prumas, deslea il carnazzare Tefascia da San Bastian con la giostra d'intorno via festile e la mascherata. Un tempo matto, vivendo dai colori di guance della tradizione, da fettucce, cucca locca, ma solo al lutto dalle faccele. Una tradizione che non c'è Tefascia sembra troppo appassionata, ma un sui autoress per dire sicuramente un esperto. Virgilio Soraperra, un che ti chiede di fare ne ha fatto dei vigni in sorte, da belle e da burte, da buffon e da bestia. Facere della tradizione, ma non c'è qualcuno tirata fuori dalla sua ricorce, da schiena facere da marascone, tada allo dalla boccia. E sul che esbanco, da giù a fuori l'odorea per darci a bevere, io c'è due marascone e uno sta facendo l'ammettura su un mobile che era attaccato al che esbanco, più basso del banco, gli sei un bezzo a vedere via diretti, e chi sono inciaccolè a dire, vabbè, la ciappetta è mandighe, e mi ha detto, guarda a me questa faccina, ma è strana, non è mai veduta questa. E mi ha detto, ma guarda, che faccia rischia, che mi ha risposto. Ma la padrocchista, a Genova, non è mai più veduta da un'altra. Anche alla sua creazione, però, lence una faccina da buffonna veie. E vedo che è buffonna, ma non dice che faccina. In l'altra dice, burta no, no, dice burta no. Invece dice, guarda, guarda questa faccina, che è un certo nez, intorcolaite così. E fino a mai fa caso che, che spiro, mi dà il color della bocca, di scendere, insomma, no? E questo aveva i bienti, pieni di righe, vedi, 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 da prendi fizzati e da tutto, no? Questo, invece, me l'aveva fatta, no? Che non è troppo, me l'aveva fatta e dì, che non mi piace, non mi piace, o che fa caso di fare la storia. E questa è la storia, non è.